ecco la ce l'abbiamo ce l'abbiamo l'abbiamo trovata un applauso la sposa hai incassato bene oggi si cosa vendi cosa che vedi che prodotti vendi una dimostrazione una televendita se sei rotto se rotto se rotto che cos'è che si è rotto attenzione fai vedere pubblicizza pubblicizza allora cazzo di pasta frolla fatto a mano con stampino disegnato su misura a 5 euro e 50 un prezzo un'occasione rigorosamente fatto a mano rigorosamente curato nei dettagli curato nei dettagli perfetto chiedono se anche ripieno di crema oppure no quella ce la metto io poi quando vengo e comunque una sposa senza censure come ti chiami Beatrice da dove vieni Ronco all'Adige da Ronco all'Adige nelle basse nelle basse ma poi diventano anche alte si si ma noi siamo già alte guarda quale ragazza di Ronco all'Adige poi cosa c'è il caso di pioggia? si no che è il caso di pioggia non è mica un ombrellino amore pensavo un cappuccio si è un cappuccio però senti questo quello vero però quindi mangi protetta poi mangi protetta perfetto quindi un biscotto abbiamo di vari tipi perfetto quelli small quelli non ci interessano tanto giusto che small aspetta aspetta scaduti nel ah ok abbiamo quelli small che possono creare danni poi quelli normali che non sono scaduti e sono gli unici che vanno bene perfetto eh perfetto e i durex che gli escadui avete preso un'offerta 2016 ah una roba dannata ecco abbiamo anche i preservativi di annata storici perché li collezioni eh si io faccio una collezione tutta la collezione a casa ovviamente fantastica fantastica Beatrice stai parlando ma Beatrice Beatrice che cosa ti ha fatto innamorare di lui? il cazzo perché ti spiego spiega spiega ci siamo conosciuti a una festa in piscina a cui io non volevo andare e si è presentato questo qua che pioveva con i boxer militari è fatta è stato un amore è fatta raga fantastica va bene ragazze facciamo un applauso c'è un applauso Beatrice grazie a tutti